Da domattina l'associazione Atirachet e Autisura Alcamese tornerà a essere iscritta nell'apposito registro prefettizio. La cerimonia si darà alle 9.30 alla prefettura di Trapani alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine del prefetto Filippina Cocuzza. L'associazione Alcamese è stata già iscritta all'apposito registro ma venne poi cancellata durante la precedente presidenza. Con l'arrivo ai vertici dell'imprenditore Dile Salvatore Di Leonardo venne presentata nella 2019 l'istanza per ottenere l'iscrizione fra pandemia e altre vicissitudini. Dopo circa tre anni la Atirachet e Autisura Alcamese è riuscita a centrare l'importante risultato. Si tratta davvero di un segnale importante e di un momento significativo per il territorio del comune di Alcamo se si consideri la rilevante funzione svolta dagli organismi associativi riconosciuti agli iscritti nell'apposito elenco. Si legge in una nota della prefettura di Trapani quale punto di riferimento per quanti sottoposti al gioco dell'estorsione e dell'usura volessero collaborare con le istituzioni ed usufruire dei benefici che la legge offre per le vittime di queste attività criminali che oltre a soffocare la libertà di impresa e i rapporti di concorrenza e di mercato si conclude la nota della prefettura inquinando l'economia locale acquiscono i fenomeni di marginalizzazione economica e sociale. Dal giugno del 2018 l'associazione Alcamese è preseduta da Salvatore Di Leonardo, imprenditore di Le e vittima anni fa di estorsione che trovò a suo tempo il coraggio di denunciare. Direttivo comunque da rinominare dopo le dimissioni di Giuseppe Campo dalla vice presidenza carica che da allora è rimasta praticamente congelata.